Oggi sono venuto qua a rappresentare la mia associazione in un ennesimo appuntamento che riguarda non solo la bioarchitettura e la biotecnologia ma anche tutti gli amministratori tecnici e coloro i quali collaborano con la NACI per migliorare i servizi a favore dei cittadini. Quindi sicuramente a NACI è in prima linea non solo nella gestione dei condomini ma anche nell'informare e formare gli amministratori perché siano sempre all'altezza di quello che oggi il mercato chiede. Quindi oggi non basta più il passacarte, non passa più il pressapochista o il dopolavorista, oggi ci vanno degli amministratori che abbiano le capacità, le competenze ma soprattutto siano in regola con quanto dice la legge, quindi il DM 140, quindi i requisiti professionali perché l'amministratore amministra. In tutta Italia, oggi siamo qua, domani a Firenze, in tutta Italia ci sono convegni di alta professionalità in collaborazione con tutti gli ordini, con la rete professionale tecnica delle professioni perché tutti collaborano in rete a far sì che i cittadini abbiano non solo la gestione ma la progettazione ma anche l'esecuzione dei lavori in garanzia perché davvero abbiano le caratteristiche di quello che è il loro avere. Quindi che cosa vogliono avere? Vogliono avere la casa migliore, che consumi di meno, che costi meno, da seri professionisti che però siano rintracciabili, affidabili e credibili. Credo che Anacci su questo possa dare un grande contributo assieme a tutti gli altri professionisti, ingegneri, tecnici, architetti, termotecnici e tutti i costruttori che seriamente vogliono lavorare nel bene del cittadino comune.